Castellabate il luogo dell'incanto è il programma di eventi previsto nel comune di benvenuti al sud dal 19 dicembre 2018 al primo giugno 2019. Si comincia il 19 di questo mese con il concerto di Donna Madonna presso la Chiesa Maria Santissima Immacolata nella frazione Lago di Castellabate con la presenza di Florenza Calogero e Marcello Colasurdo. Il 20 dicembre sarà la volta dell'ininfedelata a Morra che si esibiranno in piazza Lucia Santa Maria di Castellabate le 19 e 30. A seguire il 21 dicembre alle 18 e 30 toccherà il concerto Paese Mio Bello in programma nella Basilica Pontificia con Gianni Lamagna. Il 2 gennaio 2019 invece si esibirà l'orchestra mandolinistica napoletana con il tenore Pietro nella chiesa di San Marco Evangelista le 18 e 30. Il 15 febbraio invece sarà la volta dell'orchestra ai fiati giovanili del Cilento, l'appuntamento nella Basilica Pontificia Per i giorni 30 e 31 marzo 2019 invece è previsto l'incontro culturale FAI a cura dell'Associazione Cultura Nuova. Lo spettacolo teatrale del Sindaco Pescatore invece è previsto nel Castello dell'Abbate il prossimo 25 maggio 2019 con Ettore Bassi e regia di Enrico Lamanna. Infine il 1 giugno 2019 in programma lo spettacolo di Giancarlo Giannini in Le parole note presso Villa Matarazzo.